L'assessorato al turismo, eventi e marketing territoriale del Comune di Cosenza anche quest'anno ripropone l'iniziativa 5 sensi di marcia. L'evento che andrà in scena dal 23 gennaio al 27 febbraio prevede anche sei appuntamenti speciali dedicati alla caccia al tesoro di Alarico. Il primo appuntamento dell'edizione speciale di 5 sensi di marcia della caccia al tesoro di Alarico è fissato per sabato 23 gennaio alle ore 16. La partenza è prevista da piazza 11 settembre dalla statua del lupo di Mimorotella. Riproponiamo i 5 sensi di marcia in edizione speciale, spiega l'assessore Rosaria Succur in collaborazione con l'assessore Loredana Pastore che ha la delega alla crescita economica urbana. Insieme intendiamo promuovere le conoscenze della città, in particolare del Museo all'Aperto Bilotti, coinvolgendo direttamente le attività commerciali e riprendendo sull'isola pedonale quella caccia al tesoro di Alarico che ci ha accompagnato durante le ultime festività natalizie e di fine anno. E' ancora molto vivo il ricordo, continua l'assessore Succur della specialissima caccia al tesoro di Alarico tenutasi nel centro storico e conclusasi con la partecipazione di oltre 500 bambini nel villaggio degli Elfi, alla Villa Vecchia che ha visto la partecipazione del sindaco della città Abruzia, Mario Chiuto. Ora, conclude Succur, ci si trasferirà sull'isola pedonale e siamo certi che la partecipazione sarà altrettanto massiccia, peraltro in un momento in cui siamo in piena stagione dei saldi, quando il sabato il salotto buono della città si anima in modo particolare.